Quanto tempo da vivere, quanti soldi da spendere, quanta gente da conoscere, quanti sottosegretari da ungere. Ma adesso che giovane non sono più, voglio che tu, voglio che mi calcoli per bene, lo sai, tutta la pensione che ho, perché io voglio la mia pensione, 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 mamma dice che tu non vai bene per me, oh no, tu vai bene così, ma io voglio la mia pensione, 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 io voglio sapere da te, commercialista del cazzo, quanto di pensione, 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 la mia pensione, quello strazzo di pensione. Quanto tempo da vivere, quanti soldi da spendere, quanta gente da conoscere, quanti sottosegretari da corrompere. Voglio che tu, voglio che tu, voglio che tu, tutti i contributi che ho versato lo sai, come maggiordomo di Silvio, adesso chi me li ridarà, è la mia pensione, la mia pensione, tutti i contributi che ho pagato lo sai, come maggiordomo di Silvio, adesso mi viene il dubbio che, c'è di alla Santa Anker, c'è di alla Santa Anker, io voglio sapere perché, non mi danno, la mia pensione, 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 quello strazzo di pensione, che ho appena maturato, avrò la mia pensione.